C'erano tutte le sigle dell'emergenza e del soccorso sanitario a Roma nella sede dell'Aula Caduti di Nassiria presso il Senato della Repubblica per la nascita della Fondazione Emergenza Urgenza. Tra i soci fondatori, il direttore del pronto soccorso di Arezzo. Qual è l'obiettivo di questa fondazione? L'obiettivo di questa fondazione è quello di essere un qualcosa che colleziona tutta la parte dell'emergenza urgenza, non soltanto tutte le società scientifiche, ma anche tutti gli stakeholders, quindi l'associazione del volontariato, il soccorso alpino, l'elisoccorso, tutti insieme per avere un unico obiettivo che è un obiettivo scientifico, organizzativo, di promozione della cultura, di organizzazione di congressi e non ultimo di importanza direi anche un rapporto con la politica molto importante e il fatto che ci sia stata questa presentazione al Senato credo sia già un buon inizio perché la medicina d'urgenza era un momento di difficoltà e noi bisogna trovare questo accordo con la politica, questa unione con la politica per risolvere questo problema il prima possibile, prima che il sistema imploda. Quindi insomma ecco uno degli obiettivi è anche questo qui. Una fondazione nata per dare forza e continuità a quel bisogno di fare squadra tra le realtà del soccorso, primo obiettivo far capire alla politica e alle istituzioni che in Italia manca il personale sanitario per il settore dell'emergenza urgenza. Ecco tra le difficoltà la mancanza di personale è il primo e al primo posto? Direi al primo posto, non c'è ombra di dubbio, questo lavoro non è più appetibile per nessuno, ci sono sempre meno specializzanti che aderiscano alle scuole, vasi pensare l'80% dei posti disponibili dati dallo Stato per le borse di studio va vuoto e quindi questo è un'evidenza chiara che le istituzioni devono capire, bisogna trovare delle soluzioni che facciano in modo tale che questo lavoro è un lavoro bellissimo, non lo dico perché l'ho fatto per tutta la vita, ma è un lavoro bellissimo, però nei giovani deve essere valorizzato non solo economicamente, ma anche con uno stile di vita che sia uno stile di vita migliore. Per esempio avere uno stipendio maggiore rispetto a altre specialità non è così banale, poi non siamo certo noi a deciderlo, però io faccio sempre un esempio, fare una notte in pronto soccorso non è una guardia come si può fare da un'altra parte, ma è un giorno come se fosse giorno, dalle 8 alle 20 o dalle 20 alle 8 non cambia di una virgola e quindi questo è già un messaggio da far capire.